Cari amici di Exclusive, come tutti i gioveri vi portiamo in un posto speciale della nostra città. Oggi siamo in Piazza del Duomo e ci siamo per un motivo davvero importante, perché domenica si inaugurerà l'anno giubilare e il Cardinal Vettori passerà e inaugurerà l'anno passando attraverso la porta sud della cattedrale dopo essere passato attraverso la misericordia che vedete tutta illuminata. La porta per noi ha sempre avuto un significato importante per la spiritualità, è una porta di ingresso e noi a Firenze abbiamo la porta del Paradiso, la porta del Battistero, la seconda porta realizzata da Lorenzo Ghiverti, descritta come la porta del Paradiso, così ce la narra Alvasari nelle sue vite da Michelangelo, una porta bellissima, una porta realizzata in circa 25 anni, oggi visibile in originale nel Museo dell'Opera del Duomo, attraverso la quale i neopiti che avevano ricevuto il battesimo dopo essere passati dalla porta del Buio cercavano la luce.